La Toscana è leader per quantità e qualità nel settore florovivaistico, che ha nella pianura pistoiese, l'area di maggior specializzazione a livello italiano. Quello del florovivaismo è uno dei settori produttivi più dinamici e realizza circa un terzo della produzione lorda regionale. In Toscana si possono trovare fiori e piante ornamentali provenienti da tutto il mondo, quelle tropicali, quelle dei climi freddi, le grandi alberature, le piante in vaso, fino alle specie da fiore. Il distretto florovivaistico di Pistoia si caratterizza anche per molte produzioni tipiche che traggono la loro origine nella tradizione delle fattorie rinascimentali toscane, come ad esempio la coltivazione in vaso di agrumi, la produzione di olivi e l'arte topiaria che consente di ottenere piante dalle forme più varie per l'arredo dei giardini. Pistoia da sempre è identificata a livello regionale, nazionale ma anche mondiale come il vero distretto del vivaismo. Qui ci sono da famiglia in famiglia generazioni che hanno lavorato in questo settore, storie e culture che si sono tramandate, investimenti continui che tendono a migliorare questo tipo di aspetto. Anche in questo settore la qualità è l'elemento distintivo e quindi su questo chiaramente c'è una grande attenzione. Le aziende del comprensorio pistoiese hanno puntato sull'export e sull'innovazione, questo le ha aiutate negli anni della crisi del settore. Un settore che ha continuato a investire, ha fatto innovazione sia di processo che di prodotto. Un settore che sicuramente è all'avanguardia e all'altezza e sta competendo su questo difficile mercato con tutti gli altri paesi a livello mondiale e che offre in termini di occupazione numeri decisamente all'avanguardia. Si continua a investire in quest'area e si continua anche a tenere testa ai mercati mondiali innovando anche nei rapporti con la regione toscana e con le istituzioni. Intanto diciamo che sono due distretti, quello vivaistico e quello florovivaistico, di grandissimo pregio che in una fase anche di crisi, in particolare quello vivaistico pistoiese, pur ovviamente subendo le conseguenze che tutta l'economia globalizzata ha subito, ha saputo tenere botta, come si suol dire, perché comunque essendo composto da tanti imprenditori che fra l'altro commercializzano in decine di paesi nel mondo ha saputo probabilmente anche differenziare la propria capacità di penetrazione nel mercato e quindi oggi ci troviamo con un settore che bene o male riesce ancora ad essere trainante soprattutto per l'economia di quella zona dalla quale peraltro provengo e che ha opportunità nuove rispetto al passato. Problema che ha dovuto attraversare il settore è stato anche quello della xylella, malattia fitosanitaria che dopo varie analisi è risultata non essere presente in Toscana. Dopo una lotta fatta insieme al governo nazionale con le nostre aziende siamo riusciti a far percepire alla Commissione europea che la Toscana è xylella free perché ci sono tutta una serie di controlli specifici che noi facciamo e le nostre piante che vanno in giro per il mondo diciamo sono piante sane e che hanno subito tutta una serie di processi di verifiche molto molto attenti. La Regione Toscana negli anni ha sostenuto questa attività agricola sia con interventi normativi che finanziari, progetti integrati di filiera per essere più competitivi sui mercati globali e conquistarne di nuovi. Noi pensiamo che anche a livello interno, a livello Italia si debba poter fare qualche cosa di più. Abbiamo fatto normative importanti oltre che per le politiche di distretto anche l'aspetto proprio che riguarda il settore specifico con una legge ad hoc e stiamo cercando chiaramente anche di riattivare il mercato interno, il mercato del verde e del decoro urbano che sicuramente sotto questo aspetto può offrire a questo settore, a questo distretto importanti possibilità di sviluppo. C'è un'imprenditoria che io dico illuminata, c'è un'imprenditoria che sa stare al passo con i tempi. La regione toscana non può che sostenere questo mondo delle imprese e cercare chiaramente di supportarle nelle iniziative che vengono portate avanti. Con il piano di sviluppo rurale 2007-2013 della Toscana le aziende vivaistiche hanno concorso per il finanziamento di progetti integrati di filiera con un contributo di 5 milioni di euro per un investimento complessivo di circa 11 milioni. Per quanto riguarda l'attuale ciclo del programma di sviluppo rurale della regione toscana 2014-2020 le imprese hanno presentato progetti integrati di filiera ammessi a finanziamento per un contributo pubblico di circa 4 milioni e 700 mila euro per un investimento complessivo di circa 10 milioni e 600 mila. Noi facciamo programmazione, facciamo leggi di parlare, di confrontarci, di mettere a fuoco diciamo così e utilizzare al meglio le risorse finanziarie che abbiamo con il programma di sviluppo rurale 2014-2020, fare dei buoni bandi che permettono alle aziende di poter investire, di continuare a innovare e di essere protagonisti sul mercato. La provincia di Pistoia è il cuore del vivaismo italiano, la regione per questo ha anche puntato sulla promozione come per esempio con la manifestazione Vestire il Paesaggio. Si chiama Vestire il Paesaggio perché il verde viene interpretato proprio come un vero tessuto, quindi Pistoia, il distretto non si caratterizza soltanto per la produzione e la commercializzazione, ma si caratterizza anche per lo sviluppo di una cultura che oggi vede nei temi ambientali, nella sensibilità sui temi ambientali un grande punto di riferimento. E penso appunto che gli ambiti siano anche maturi per poter immaginare anche una produzione che si evolve offrendo nuove risposte e nuove opportunità. Come quella di carattere ambientale. Tra l'altro accanto al distretto vivaistico vi è un distretto forestale con il quale il distretto vivaistico può utilmente dialogare proprio per unire da una parte sicuramente la valorizzazione della fria del legno, ma l'altra anche un presidio, anche lo sviluppo di una cultura del verde intorno a essenze che possono essere in grado, une più di altre, appunto di assolvere ad obiettivi che sono anche rispetto alla difesa del suolo e poi tornando ovviamente all'area tutto il tema dei parchi, del verde pubblico, insomma ovviamente ci sono delle sinergie interessanti. Ma come valorizzare ancora di più il settore florovivaistico? Dobbiamo come istituzioni cercare di venire incontro al mondo dell'impresa favorendo per esempio l'aspetto della burocrazia, cioè diminuire i carichi burocratici che ci sono in determinati processi e percorsi che richiedono più tempi, più complicazioni e quindi anche più costi. Cercare oggettivamente, anche perché è rilevante in questo tipo di mercato di coordinare delle politiche di promozione mettendo al centro la qualità, la storia, come dicevo la cultura di questi imprenditori che io definisco artigiani diciamo del vivaismo perché veramente c'è dietro una cultura forte e fare una promozione come distretto che sia identificativa del territorio. Questo paga a livello mondiale perché su alcune piazze nelle quali i vivaisti stanno prendendo sempre più campo è molto forte il senso del brand toscano anche nel settore del vivaismo e quindi su questo dobbiamo lavorare.